Il progetto Aditec, un progetto che mette insieme tecnologia e uno sguardo a quello che è tutto il mondo dell'immunizzazione, ovvero i vaccini. Il progetto Aditec è il più grande progetto, è un high impact project, il più grande progetto finanziato dalla comunità europea nel campo dei vaccini. Ha ricevuto un finanziamento di 30 milioni di euro, coinvolge 40 partner da 12 paesi europei e gli Stati Uniti e è veramente un esempio di successo. L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare nuove tecnologie di immunizzazione per i vaccini di nuova generazione. Il progetto è una partnership tra pubblico e privato, infatti coinvolge molte piccole e medie imprese, 13 piccole e medie imprese e grandi industrie insieme a centri di ricerca. Ed è coordinato proprio qui in Toscana, a Siena, infatti è coordinato dalla Sclavo Vaccine Association, che è un'organizzazione no profit fondata dall'Università di Siena, insieme all'azienda ospedaliera Università Riazienese e Novartis Vaccines for Global Health, a cui poi si sono associati ben altri sette istituzioni europee ed è diventato un leader nel panorama europeo nel campo dei vaccini. Grazie